il wok dell'ambuca, il wok dell'ambuca, molto semplice, pochi ingredienti, fresco la lambuca fresca si coltata inrodata, cruda, tutta classe di verdura coltata tipo culiano un po' come questa, e arrò servito con un po' di curry nella massa, tutto molto semplice il wok dell'ambuca, il wok del uomo, la verdura, la verdura, la verdura, la verdura, un minuto e termine un minuto e un minuto. Grazie.